Vuoi che la tua pausa caffè diventi un momento di vero piacere e relax? Scegli di collocare i distributori automatici break caffè all'interno della tua azienda, attività commerciale, palestra o in qualsiasi altra location aperta al pubblico e potrai gustare un caffè dal sapore corposo e dal profumo idilliaco. Oltre che di varie bevande, i nostri distributori sono forniti di snack ed integratori alimentari. Potrai scegliere il modello più consono alle tue esigenze di spazio. Garantiamo un servizio immediato di assistenza tecnica 24 ore su 24 chiamando il numero verde 800-9106-61. Inoltre, presso i nostri punti vendita di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa, puoi acquistare le cialde delle migliori marche. La Vaz Espresso Point è blu, a modo mio, Bialetti, Breck, compatibile in Espresso e Condorelli e troverai cialde a partire da soli 13 centesimi. E per l'ufficio e la famiglia effettuiamo anche la vendita di macchine da caffè Lavazza, Nespresso, Breck, Saeco e tante altre marche, a partire da soli 59 euro. Per tre anni abbiamo l'esclusiva della capsula e della macchina da caffè del Catania Calcio Catania Lea Espresso. Vi aspettiamo a Siracusa in Viale Zecchino 58. Breck Caffè serve i suoi clienti, li assiste e lo fa con passione e professionalità. Grazie! Grazie!